Nel 2011 in Toscana sono stati destinati alla coltivazione di pomodoro da industria 2.600 ettari di terra, con il coinvolgimento di 230 aziende ed una produzione complessiva di circa 200.000 tonnellate annue lavorate nei sei stabilimenti presenti nella nostra regione. Una filiera fondamentale per il settore agricolo e strategicamente importante per la qualità delle produzioni, che la regione intende rafforzare, iniziando dalla firma di un protocollo con una delle maggiori industrie di lavorazione del pomodoro presenti in Toscana, la Italian Food di Venturina, ma che coinvolge anche gli enti locali, le aziende dell'acqua, dei rifiuti, le organizzazioni agricole, le centrali cooperative e i produttori. Avviamo in maniera decisa il sistema della filiera del pomodoro, che non riguarda solo questa azienda, ma riguarda anche altre cinque aziende che sono presenti in Toscana, con le quali stiamo costruendo in parallelo anche un accordo per quanto riguarda il prezzo del pomodoro da industria. Il protocollo prevede da parte dell'azienda, pur in un momento di difficoltà come questo, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e permette in contemporanea di risolvere il problema dell'uso di grosse quantità di acqua tipico di queste industrie. L'azienda si impegna a fare un lavoro di riutilizzare l'acqua che utilizza continuamente per quanto riguarda il lavaggio dei pomodori e la lavorazione successiva. Quindi è stato costruito questo accordo anche con l'azienda che nel territorio segue le tematiche dell'acqua, con l'ASA, proprio per affrontare anche queste problematiche.